Il comune è già ristrutturato e in cui noi ci troviamo molto bene. E questo era un ex convento di suore di clausura che poi per noi ci hanno donato e abbiamo ristrutturato un grande giardino con degli alberi. Adesso vi accompagniamo all'interno della nostra scuola. Questo è il mosaico, l'albero della vita, che abbiamo realizzato l'anno scorso e per noi sta a simboleggiare la rinascita dopo il telemodo. Grazie alle donazioni che ci hanno fatto molte associazioni in tutta Italia, in particolare la cittadinanza attiva, siamo riusciti ad avere in ogni classe una lavagna multimediale in cui noi possiamo fare di tutto e che ci è molto utile. Dalle nostre aule vi vogliamo ringraziare e salutare per il prossimo giorno. Il prossimo giorno è che adesso il comune sta lavorando per un nuovo polo scolastico che comprenderà tutte le scuole e di cui noi siamo molto contenti. Grazie a tutti.